Il risultato delle elezioni in Umbria, 27 ottobre 2019, è tenuta del governo. Allora, da una parte ha ragione il premier Conte quando dice che un risultato elettorale, anche se significativo e importante in una regione importante ma piccola come l'Umbria, non può mettere in discussione un governo nazionale che si basa su altri parametri, anche perché in Umbria si può aver perso il centro-sinistra per il Movimento 5 Stelle, anche perché semplicemente i cittadini Umbri possono aver giudicato cattivo il governo fatto dalla precedente amministrazione di centro-sinistra e quindi non mettere in discussione la solidità del governo, anche perché sono un campione ma non rappresentano tutta l'Italia. Dall'altra parte ha delle ragioni anche Salvini nel dire che questo è un governo frutto di un laboratorio stranissimo, ma visto nella storia repubblicana, perché se è pur vero che anche il governo che ha visto come ministro dell'Interno Salvini non è stato frutto di un risultato elettorale, cosa che non è prevista dalla Costituzione, però due partiti si sono andati a unire dopo le elezioni presentandosi invece come avversari nella contesa elettorale. Ma il governo PD, Movimento 5 Stelle, è il laboratorio ancora più strano perché entrambi dicevano mai con l'altro, mai con l'altro, hanno fatto un governo per necessità, riconfermando il premio del governo precedente dove c'era la Lega. Hanno deciso, tatticamente, per cercare di dare anche solidità a questo governo, di presentarsi come alleati in Umbia. Il fatto che si siano presentati alleati in Umbia aumenta il senso della sconfitta, perché questa alleanza non è un'alleanza programmatica o costruita nel tempo, ma un'alleanza che è venuta fuori perché, siccome siamo alleati a livello nazionale, così ci alleviamo anche a livello locale. E quindi che questo governo possa essere messo in discussione è nelle cose. Dall'altra parte vediamo Renzi, che è pur un sostenitore di questo governo, almeno formalmente, che però in pratica dice che il PD si è macinato all'interno di un'alleanza innaturale, in quanto lui, che è stato quello che ha proposto il governo, lui ci però ha proposto un governo per degli obiettivi e non un'alleanza innaturale che potesse perdurare oltre i confini del governo e oltre i perimetri di questo brevissimo periodo storico, senza andare a cercare laboratori oltre. Il risultato è chiarissimo, ha visto Donatella Teseiti non fare con il 57%, oltre il 20% in più di Bianconi rappresentanti del centro-sinistra. Residuali le altre risultati elettorali, diciamo che il movimento civico ha ottenuto un risultato minimamente denitoso, però vediamo che anche tutte le forze di sinistra, considerate sinistra estrema, hanno avuto un pessimo risultato. Allora, c'è da fare un'analisi che come sempre non è un'analisi semplice ma un'analisi complessa. Uno, queste elezioni sono state costruite, cioè non le elezioni ma l'alleanza alle elezioni, costruite al fine di testare il governo e da questo punto di vista il risultato è andato malissimo. Vediamo però una politica che continua a pensare di risolvere tatticamente delle problematiche e in questo tipo di politica, dove c'è più tattica che azione politica, trionfa sempre quello che si veste da antisistema, almeno fino a quando non diventerà sistema. Cioè l'Italia ha funzionato così, diciamo dalla fine della democrazia cristiana in poi, perché Berlusconi ha vinto l'elezione del 1994 presentandosi come antisistema, nonostante lui fosse un continuatore del sistema di Craxi e abbia reinserito nel sistema delle forze antisistema come il Movimento Sociale Italiano che però nella tradizione politica sono state il sistema durante il fascismo e la Lega che da quel momento però ha perso la sua stinta secessionista. L'unico gruppo politico che si è sempre caratterizzato per difesa del sistema è stato, diciamo, prima il partito democratico di sinistra, poi i democratici di sinistra e poi il PD nelle alleanze con le ex democristiani. Andando da una parte a rassicurare investitori Europa e alcune forze conservatrici del paese, ma perdendo la spinta a sinistra che questo movimento poteva avere e non incarnando mai una credibilità antisistema se non nel primissimo periodo di Matteo Renzi. Quindi quando l'antisistema che è diventato sistema fallisce, Berlusconi si ricorre a governi di centro-sinistra credibili e affidabili per l'Europa, abbiamo visto governi Prodi, governi D'Alema, governi Amato. Poi Berlusconi riesce a mantenere una chiave antisistema, vince 2001-2006, 2008-2011 e con l'intervallo Prodi 2006-2008. A quel punto la credibilità del sistema viene salvata dall'intervento europeo con il governo tecnico, il governo Monti, che però infastidisce ancora di più quelli che volevano essere antisistema e che vedevano un'Europa che distruggeva le possibilità dell'Italia. E il Movimento 5 Stelle diventa quello che incarna l'antisistema. Per un periodo l'antisistema è stato incarnato anche dai movimenti di Di Pietro e Bendola, ma è stato un periodo troppo breve. Nel 2013-2018 il Movimento 5 Stelle è stato il primo partito in Italia per due elezioni di fila, però questo partito ha avuto buon gioco nel considerare sistema da battere il governo Letta prima, il governo Renzi poi e il governo Gentiloni dopo, però poi è andato in difficoltà quando ha governato ed è dovuto diventare sistema. Diciamo che anche Renzi era riuscito a dare una chiave diversa, una visione diversa, parlo soltanto a livello di comunicazione non politica, del Partito Democratico, presentandosi lui come il rottamatore che voleva costruire un antisistema all'interno del partito del sistema, ma ha fallito prima del referendum e poi si è dimesso dal partito e ha costruito un altro gruppo, ora, per cui non si può fare un'analisi storica, troppo recente, che è Italia Viva. Il Movimento 5 Stelle va a unirsi all'altro partito che piano piano è tornato ad essere del partito antisistema grazie alla forza comunicativa di Salvini che è la Lega Nord. Governando insieme hanno dimostrato che comunque il governo doveva rispondere a determinati meccanismi di sistema e è nato un gioco delle parti dove a un certo punto il sistema grigio è stato incarnato da Movimento 5 Stelle, mentre la Lega, avendo una spinta elettorale molto più forte grazie alla posizione mediatica di Salvini, ha continuato ad essere, si diceva prima, di lotta e di governo, un partito antisistema seppur all'interno del governo oppure, anche se non lo è, percepito così. Quindi quando Salvini ha rotto l'alleanza pensando ad andare alle elezioni, ha commesso un errore tattico perché il rischio di non andarci era elevato ed è nato dalle magie della politica italiana il governo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico che è quindi il Movimento 5 Stelle da quel momento è diventato un partito di sistema chiaro e paradossalmente la Lega è riuscita a sganciarsi e diventare l'antisistema sul quale provare a costruire il voto di protesta e il Partito Democratico ha mantenuto la sua tradizione di partito di sistema. Ora, questo risultato elettorale mostra comunque, anche se l'Umbria, anche se è una regione non grandissima, però una regione rossa, tradizionalmente rossa, che dopo 50 anni la sinistra lascia l'Umbria e finisce nelle mani della destra. E vediamo una Lega che ha tenuto un risultato incredibile, il 37% in Umbria e vediamo Fratelli d'Italia che aveva doppiato il 10%, il PD si è attestato su un 22%, ma il Movimento 5 Stelle è sceso da un 18% a un 7,4%. Quindi vediamo che se si pensava di frenare Salvini con un governo PD e Movimento 5 Stelle vediamo che questo per ora non sta riuscendo. E non sta riuscendo, a mio avviso, perché è stata persa un'occasione storica, cioè PD e Movimento 5 Stelle, questa è la mia modesta opinione, dovevano governare insieme perché non c'erano alternative nel Paese, ma dovevano davvero dare un governo di sforza, non un governo di svolta, non un governo del bilancino, 10 io, 10 te, il premio è tuo, ci riequilibriamo con i sottosegretari, vecchie logiche democristiane che sembrano non andare mai davvero in soffitta e che hanno in qualche modo coinvolto anche il Movimento 5 Stelle. Questo ha dato buon gioco a Salvini per mostrare che questo è un governo ancora grigio, un governo schiavo dell'Europa, perché comunque c'è una parte degli italiani che anche a giusta ragione considera l'Europa, anche se non un nemico, un qualcosa che deve essere rivista e questo governo non sembra avere l'incisività per rivedere i rapporti con l'Europa e non ha avuto il coraggio di una svolta di mettere all'interno del governo, e questa volta si poteva fare un governo d'ambizione, un governo che non doveva gestire l'esistente, ma personaggi, Milena e Mettegino Strada, altri, almeno provare a coinvolgerli non per fare un governo tecnico, ma per fare un governo sganciato dalle segreterie dei partiti, più che da partiti, per dare davvero una spinta con l'Italia più bella, più energica a questo governo. Questo non è stato fatto e il grande problema è che in questo giochetto di sistema-antisistema, dove ognuno gioca un ruolo in commedia a seconda della situazione del momento, dove poi vediamo che l'antisistema Salvini è alleato con Berlusconi, che oggi in qualche modo rappresenta il sistema, ma tant'è che nell'alleanza lui ha preso il 5%, c'è un risultato minimo, mentre i fratelli d'Italia aveva addoppiato il proprio voto, presentandosi ancora come un partito di protesta, pur essendo un partito conservatore. Quello che manca è proprio invece la visione politica di quello che serve, e chi lo propone è talmente fuori dalla logica che non può essere premiato, cioè quello che serve è una politica di svolta a favore della solidarietà, dell'uguaglianza, che non è il programma dei buoni, ma il programma dei saggi, è quello che davvero serve a questo paese. Invece in questo gioco delle parti si perde di vista quello che è un processo. Quindi non credo che l'Italia possa essere salvata dal tatticismo politico esasperato, e anche fatto piuttosto bene in certi momenti dal partito democratico, non può essere salvato da un richiamo pulsionale all'italianità, ovvero Salvini, ma serva davvero una svolta culturale, che purtroppo non è una cosa che puoi programmare tra un'elezione e un'altra, finché l'obiettivo sarà la prossima elezione. Le prossime elezioni avranno risultati per chi crede davvero in un cambiamento, specialmente di sinistra, deludenti. Però la svolta deve essere una svolta culturale, come c'è stata una svolta culturale della destra, cioè ovvero quello di cambiare, di creare una trasformazione antropologica per cambiare un sistema di valori, e che fa già capire davvero che quello che serve in questo momento è riprendere un cammino verso l'uguaglianza. Perché in questo paese un cammino verso l'uguaglianza lo abbiamo avuto, questo cammino verso l'uguaglianza può riprendere. E' stato arrestato troppo presto, è stato arrestato da delle forze di sistema che sono state pilotate, che sono state spinte, però questo cammino è un cammino che è inevitabile, ma è un processo culturale lunghissimo, quindi se si aspetta che arrivi il Messia, che cambi tutto e che risolva la situazione, non ne usciremo mai.